Vivere di più nel cinema, nel teatro che nella vita reale, certe volte, perché la vita reale ti ammazzano. Non c'è più una relazione, meno male che l'arte ci salva la vita, meno male. Una bella responsabilità per Mimmo Calopresti, che ha ancora un'idea romantica di cosa voglia dire essere un regista. Come mettersi sull'orlo di un burrone e cominciare a pensare che tu potrai stare lì a fare il tuo lavoro e che non precipiterai mai.